Ciao a tutti, siamo qui per presentarvi la scuola che ci ha ospidato per 5 anni. Questo è il nostro giardino che conduce all'ingresso principale. È uno spazio verde ed ombroso nella bella stagione, dove noi bambini accompagnati dai nostri insegnanti trascorriamo alcuni momenti ricreativi. Dall'ingresso principale vi conduciamo a visitare le aule disposte al piano terra. Le aule sono sette, sono tutte molto grandi e luminose. Se decidiamo di scendere ci ritroviamo in palestra o nell'aula specchi. Andiamo in palestra! Questa è la nostra palestra. Qui, una volta alla settimana, ogni classe svolge attività motoria. È un ambiente molto ampio e luminoso. Alcuni esperti affiancano i nostri insegnanti nel progetto sport, nel quale noi ci avviciniamo alla pratica del basket e della pala a volo. Ci divertiamo tanto quando veniamo qui. Dalla palestra possiamo accedere al nostro cortile interno, spazio riservato al gioco e all'attività motoria all'aperto. Quest'altro spazio è la sala specchi. Viene utilizzato soprattutto dai bambini del primo ciclo, classi prime e seconde, per svolgere attività di psicomotricità legate alla percezione del proprio corpo e alla lateralità. Due rampe di scale ci conducono al primo piano, dove troviamo altre otto aule corrispondenti a quelle del piano inferiore. Tra queste, una è dedicata ad attività a piccolo gruppo e ad attività alternativa alla religione cattolica. Al primo piano troviamo anche la sala mensa. Qui noi bambini del tempo pieno mangiamo cinque giorni a settimana, mentre i bambini del tempo modulare consumano il pasto solamente il giorno in cui hanno il rientro pomeridiano. È un ambiente spazioso e pieno di luce. Le cocche sono molto gentili e ci servono appetanze nutrienti e invitanti. Salendo ancora, al secondo piano, entriamo in biblioteca, spazio dedicato alla lettura, al confronto e al circle time legato ai testi che leggiamo. Questi cinque anni trascorsi alla scuola Carducci, insieme ai nostri compagni e agli insegnanti, ci hanno fatto crescere e maturare in un ambiente sereno e accogliente, ricco di proposte interessanti e divertenti. Se siamo stati convincenti nel presentare la nostra scuola, iscrivetevi numerosi!